Grazie a tutti i miei cari cittadini, sono contento della vostra presenza. Nel cuore dell'area grecanica, in un paesino chiamato Montebello Ionico, dove la tranquillità è quotidiana. All'improvviso un gruppo di contadine, stanche delle solide giornate, si mettono in gioco con la propria immagine, per migliorare la propria esistenza, per un futuro migliore. Intanto le forze dell'ordine, date le tante cause di poco valore, perdono il controllo della situazione e da quel momento il caos, dove ognuno si fa giustizia da solo. E fu così l'inizio del cambiamento, dove ricchi e poveri non trovano accordi, e solo la lira giustifica le azioni. Qualcuno non la pensa allo stesso modo, quindi decide di agire secondo il proprio istinto, fino alla fine. Come finirà? Tragedia o allegria? Se volete vedere come va a finire, venite al cinema, giorno 29 dicembre, ore 16.30, Don Bosco. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!